Runtime, chi sarà il vincitore? Scopriamolo insieme! Scopriamolo insieme! Scopriamolo insieme! Scopriamolo insieme! Scopriamolo insieme! Grazie a tutti. 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 Il primo premio della Drum Time Challenge 2020 è stato segnato a... Tommaso! A pari merito è stato assegnato un altro premio a una nuova recluta, una giovane leva, una new entry. Il secondo premio va a... Giacomo! Ringrazio tutti i partecipanti per aver aderito all'iniziativa e colgo l'occasione per augurare Buon Natale a tutti e passare buone feste.